Uccide la madre e si suicida. Tragedia a Milano per famiglia di Fossombrone. Il Consiglio regionale approva il nuovo piano socio-sanitario. Completato il restauro della Madonna dei Cappuccini. A Pesaro Forza Italia si riorganizza in vista delle amministrative. Cultura dalla sera all'alba con i notturni oliveriani. Cultura dalla sera all'alba con i notturni oliveriani. Bentrovati oggi mercoledì 9 agosto 2023 con l'appuntamento con l'edizione serale di Rossini News. Apriamo con una notizia di cronaca che arriva da Milano e che riguarda una famiglia originaria di Fossombrone. Questa martina in un palazzo del quartiere Niguarda il 53enne Riccardo Guidarelli ha ucciso a coltellate la mamma di 86 anni, Maria Costantini, e poi si è tolto la vita gettandosi dal quarto piano della sua residenza di via Palanzone. L'uomo attorno alle 5 di mattina ha chiamato il 112 minacciando il suicidio, ma senza far cenno alla madre uccisa con la quale conviveva. Arrivata sul posto la polizia ha trovato l'uomo esanime in strada e all'interno dell'appartamento, in camera da letto, è stato trovato il cadavere della donna che presentava i segni di coltellate alla gola. A quanto si apprende Guidarelli soffriva di disturbi psichiatrici e nel 2018 era stato sottoposto a un trattamento sanitario obbligatorio dopo aver dato in escandescenze durante una visita in ospedale. Dalla cronaca alla politica, dopo le 7 ore di discussione di ieri, il Consiglio regionale delle Marche si è ritrovato oggi per approvare il nuovo piano socio-sanitario 2023-2025, ritenuto il provvedimento legislativo più importante della Giunta Acquaroli dal via della riforma sanitaria dello scorso anno. Il piano è stato votato con 21 voti favorevoli. All'ultima parte della discussione in aula e alla votazione non hanno partecipato per protesta i gruppi del PD, del Movimento 5 Stelle e di Simona Lupini del Gruppo Misto, che hanno fortemente condannato un piano che, a loro dire, non dà risposte, è ingannevole e illude i cittadini marchigiani. Ed ora cambiamo argomento. Sono stati completati i lavori di restauro della statua della Madonna dei Cappuccini che a Pesaro fu sfregiata dal terremoto dello scorso novembre. Vediamo il servizio. 9 novembre 2022-9 agosto 2023. A nove mesi dal sisma che ha sfregiato il capo della statua della Madonna dei Cappuccini, è stato completato il lavoro di restauro dell'opera dello scultore Luigi Galli, che da oltre 60 anni è un'icona cittadina alle porte del Centro Storico. Un'opera portata avanti attraverso un service del Lions Club Pesaro della Rovere, che grazie anche al contributo di Renco S.P.A. si è presa carico di questo ripristino avviato a giugno e appoggiato da Comune di Pesaro e dalla stessa parrocchia dei Cappuccini. Un messaggio forte è che noi Lions, insieme al Comune, insieme alla società Renco, vogliamo lasciare a tutta la città, a tutti i pesaresi. Quindi oggi possiamo annunciare che i lavori si sono conclusi, siamo riusciti a restaurare, a riportarla all'originaria bellezza e a fine agosto, stiamo pensando alla data del 24 agosto, ve lo anticipiamo, ci sarà lo svelamento di questa statua con una festa e un rinfresco dedicato anche a tutta la parrocchia. Sono molto orgoglioso che il nostro club abbia dato un contributo di sensibilità e di concretezza alla città di Pesaro. Ovviamente ringrazio anche tutti i soci del mio club che ci hanno dato questa opportunità, condiviso questo progetto iniziato da Chiara. A curare il restauro Michele Pagani di Etra Restauri che su indicazione dei frati Cappuccini ha ripristinato la statua alla sua versione originale, ovvero con la testa della Madonna libera dall'aureola ora conservata in parrocchia. Un intervento su un'opera privata applaudito dal comune di Pesaro. Avere avuto vicino a me delle persone così disponibili come la Renco, come il Lions della Rovere è stato veramente molto molto importante. Il comune di Pesaro si avvale anche dell'assessibilità dei cittadini, questa è la cosa più importante e qui ha funzionato in maniera egregia. Noi oggi abbiamo e restituiremo alla città la statua della Madonna dei Cappuccini che è un simbolo, un simbolo religioso ma anche di affetto per tutti i pesaresi e quindi lo riteniamo un arrivo molto importante. La scorsa settimana durante il nostro Tg vi abbiamo mostrato la campagna di sensibilizzazione contro le truffe agli anziani promossa dal comune di Pesaro e dalle forze dell'ordine. A tal proposito sul tavolo dei Carabinieri di Pesaro è arrivata ora una nuova denuncia di una truffa ai danni di una novantenne che al cimitero centrale si è vista schizzare del liquido alle spalle da un uomo di circa 30 anni. Nell'occasione l'uomo ha fatto presente all'anziana, come ne fosse piovuta dal cielo, la deiezione di un volatile e affrettandosi nel ripulirla è riuscito a derubare la malcapitata di alcuni gioielli. I Carabinieri cercano il responsabile indagando eventuali immagini di videosorveglianza. Alla stazione dei treni disagi anche ieri e anche in buona parte della giornata odierna per un guasto alla rete internet di tutta la struttura che ha visto fuori uso la biglietteria con conseguenti problemi per i viaggiatori. A rimanere senza connessione anche il bar, l'edicola, i taxi e la vicina stazione degli autobus. Come si vede da queste immagini all'interno della stazione è rimasta attiva una sola biglietteria elettronica con un addetto ad agevolare gli acquisti degli acquirenti che si sono ritrovati alle prese con inevitabili code. Ed ora un approfondimento di politica. Questa mattina abbiamo avuto ospite nei nostri studi qui a Rossini TV Gianmarco Cecconi che a fine luglio è stato nominato commissario coordinatore di Forza Italia a Pesaro. Un partito che vive una fase molto delicata dopo la scomparsa di Silvio Berlusconi. Gianmarco Cecconi dal mese di luglio è diventato il nuovo coordinatore comunale di Forza Italia a Pesaro. Un momento particolarmente delicato per il partito perché naturalmente deve fare i conti con la scomparsa del suo fondatore Silvio Berlusconi. Sul territorio Cecconi eredita anche quello che fu un incarico storico dalla stessa fondazione del partito che fu a capo di Anna Renzoni. Che momento è per Forza Italia? Per Forza Italia è un momento molto particolare. La scomparsa di Berlusconi e la scomparsa della Renzoni qua a Pesaro hanno creato un vuoto storico perché la Renzoni in particolare ha sempre fatto la coordinatrice comunale di Forza Italia quindi teneva da tempo, dall'inizio e dalle origini le fila di questo lavoro. Quindi io sono stato chiamato e nominato dal Norevo Battistoni a compiere questo ruolo in attesa delle elezioni del prossimo anno, in attesa di congressi che poi stabiliranno chi farà il coordinatore comunale qua a Pesaro. Io credo che la presenza di Forza Italia a livello nazionale o soprattutto anche qua a Pesaro rappresenti un puntasello fondamentale, cioè il centrodestra senza un partito moderato come Forza Italia in una zona anche storicamente rossa come questa farebbe fatica a proporre un'alternativa credibile. Quindi la presenza di Forza Italia è fondamentale e io lavorerò affinché a Pesaro ci sia questa presenza, sia credibile, sia importante e rappresentativa della cittadinanza. Proprio in questi giorni incassate di fatto il brutto colpo dell'uscita di Michele Redelli e annunciata il capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale a Pesaro questo è uno dei sintomi che comunque il partito vive dopo la scomparsa di Berlusconi? Sì, questo è un momento in cui magari qualche componente di Forza Italia ha subito una sensazione di confusione e di mancanza di punti di riferimento capisco la scelta di Michele che è un amico, l'ho sentito in questi giorni e per Forza Italia certamente rappresenta un colpo duro perché non abbiamo la presenza più in consiglio comunale, però Michele mi ha assicurato che l'impegno che si è preso con gli elettori che l'hanno eletto nel 2019 lo porterà avanti fino all'ultimo giorno di legislatura. Forza Italia c'è a Pesaro lo stesso, adesso io sto creando una squadra molto forte e che insomma si farà sentire nell'ambito della politica pesarese Ed ora cambiamo completamente argomento, domani è la notte delle candele, il 10 di agosto la serata ormai famosa per Pesaro, un evento divenuto ormai tradizione nell'estate della nostra città con 20.000 fiammelle, musica e spettacolo. Per la notte di San Lorenzo del 10 di agosto l'immagine del litorale del Monte San Bartolo torna per la non edizione ad essere illuminata dalla luce di 20.000 fiammelle. Candelle sotto le stelle riaccende l'atmosfera romantica del castello di Gradara e i 7 chilometri di costa con più di 80 stabilimenti balneari tra Pesaro e Gabice Mare che si coloreranno di bianco in piena condivisione con il dress code della serata. È un'edizione attesa, attesa appunto perché è l'appuntamento non solo più glamour se vogliamo ma anche più partecipato, anche più popolare allo stesso tempo e non è facile tenere insieme questi elementi dell'estate, quest'anno avremo anche il contorno della ruota a fare da scenario ulteriore in bianco alla notte in bianco delle candele e la partecipazione confermata appunto della riviera del San Bartolo da puntista musicale diverse novità in particolar modo su Pesaro avremo questa liaison che si conferma dopo il Caterra d'Uno con l'orchestra Casa Dei, questa volta con l'orchestra Ivy on Travel che qui capiamo anche un concerto veramente di qualità, veramente importante e altri momenti musicali come ad esempio la pizzica e altri spettacoli che verranno distribuiti nel lungomare. Noi di solito ci riorganizziamo, ci troviamo alle 6 alla zona della Palla di Pomodoro e da lì dopo ci dividiamo i vari compiti tra i volontari e si parte comunque all'incirca per le 7 e mezza, 8 e le candele sono tutte accese per l'evento e quest'anno ci sarà come l'anno scorso in la zona sempre della Palla di Pomodoro, lì adiacente alla Palla di Pomodoro la scritta con le candele Pesaro 2024. È un appuntamento importante, è un appuntamento molto atteso da tutti i turisti, dalla cittadinanza, ormai è una consuetudine, la notte porta anche elementi di magia a Pesaro, quindi quest'anno pensiamo sia un'ottima edizione, molto coinvolgimento, anche l'associazione è parte attiva quest'anno dell'iniziativa, quindi abbiamo grandi attese. Una biblioteca e un museo aperti dalla sera all'alba fra libri, teatro, musica ed intrattenimento. Questo è Notturni Oliveriani, appuntamento che il 17 agosto biblioteca e musei Oliveriani replicano dopo l'esperienza già testata nei mesi invernali. Giovedì 17 agosto, ma è il caso di dire anche venerdì 18 agosto perché sarà un appuntamento che dalle 21.30 arriverà fino alle 5 di mattina, un felice esperimento che si replica, quello dei Notturni Oliveriani in cui biblioteca e museo ci mettono davvero di tutto, dalle visite guidate ai luoghi proprio specifici di Palazzo Almerici ma anche teatro, musica, escape room, un po' di tutto. Sì, in effetti ritentiamo questo esperimento riuscitissimo a dicembre che avevamo organizzato appunto per l'inaugurazione del Museo archeologico, lo ritentiamo questo 17 agosto con questo numero che insomma sta diventando forse per noi un po' simbolico anche della nostra attività, lo ritentiamo e quindi sì, di nuovo aperti per tutta la notte e dalle 21.30 e con iniziative veramente anche diciamo molto diversificate, ci sarà musica per ballare, ci sarà musica da ascoltare, ci saranno ovviamente le visite guidate per cittadini e anche turisti perché saranno anche in inglese e ci saranno performance teatrali e insomma iniziative veramente molto diverse che appunto inizieranno dalle 21.30 e si svolgeranno fino alle 5 del mattino anche un escape room che sarà comunque che si svolgerà nelle nostre sale di lettura e il tutto accompagnato da un calice di vino perché chiaramente un buon bicchiere di vino aiuta sempre. Come Piazzolo Segreta avremo filmati e fotografie dell'archivio di Gabriele Stropanobili anni 50, anni 60 supportati da musica anni 60, musica italiana che metteremo su noi da mezzanotte in poi ma prima invece entra in gioco Ugo Betti, Ugo Betti perché mi hanno chiesto la direttrice di trovare un gruppo che potesse suonare, fare musica italiana ma io ho visto questo gruppo che doveva non cantare suonare su un palco ma interagire con il pubblico stesso e quindi ci saranno con noi gli stralunati sono un trio, due ragazzi e una ragazza, la ragazza canterà addirittura con il figlio perché ha partorito da poco e quindi interagirà con il pubblico che andrà a visitare la biblioteca o il museo bevendo anche un calice di vino e suonando musica italiana quindi sarà proprio una open biblioteca, open museo, bellissimo secondo me. Tra arte e cultura che si mescola in questi notturni oliveriani non può mancare il teatro. Sì, effettivamente il teatro è il teatro contaminato perché è un'analogia proprio continua con una canzone di Lucio Dalla che è cara e sono dei giovani che fanno dei dialoghi che si mischiano in qualche maniera con le parole della canzone di Dalla. Chiaramente siamo un istituto storico che conserva un patrimonio importante, la storia della città di peso del territorio e non solo, oltre 2000 anni di storia sono conservate nelle nostre stanze e chiaramente hanno un pubblico di specialisti, di studiosi, di persone che sono interessate chiaramente ad approfondire ciascuno alla propria disciplina. Però questo non è soltanto questa la nostra finalità ma è quella secondo me soprattutto di arrivare a tutti i cittadini e di far conoscere ai più cittadini possibili tutto quello che noi abbiamo e che in fondo rappresenta l'identità un po' di tutti quanti noi che viviamo questi territori o anche di chi viene qua in visita e di farlo in maniera gioiosa, divertente ma sempre molto rigorosa. Cioè questo ci teniamo perché quello che noi diciamo e raccontiamo è sempre collegato appunto agli avvenimenti storici, a quello che le fonti documentarie raccontano. Però ecco farlo in maniera divertente e non in maniera così soltanto accademica. Ancora cultura e parliamo di musica. In questa intervista il presidente dell'orchestra sinfonica Gioachino Rossini, Saul Salucci, illustra la seconda edizione del Bel Canto Ritrovato. Dopo una prima edizione di grande successo torna il Bel Canto Ritrovato, questa manifestazione che intende dare valore ai compositori meno noti del primo dell'Ottocento, però meno noti oggi. In quel momento invece erano osannati dal pubblico. Dopo la storia traccia una riga e oggi ricordiamo Rossini, Bellini e Donizetti, Maicoccia, Vaccai, Nini, Persiani. Erano grandissimi compositori e che ci hanno lasciato tantissime opere. Oltre 120 sono le opere che abbiamo già monitorato e dalle quali cercheremo delle aree, sinfonie e anche delle opere intere da riproporre. E quindi un'operazione di archeologia musicale che ci restituisce musica bellissima e potremmo anche dire nuova perché pochissimi hanno ascoltato queste composizioni. Saul, quali sono i luoghi, quindi le città che andrete a toccare con il Bel Canto Ritrovato? Sì, in realtà saranno 5 città, Pesaro, Fano, Urbino, Re Canati e Matelica. Infatti abbiamo un corollario, possiamo dire così, di sostenitori, di amministrazioni pubbliche e tanti sponsor privati e quindi ad esempio con la Regione Marche ogni anno abbiamo deciso di valorizzare un paio di luoghi preziosi. Quest'anno saremo sul Colle dell'Infinito a Re Canati e al bellissimo Teatro Pier Marini di Matelica. A Pesaro, Fano, Urbino, gli spettacoli di debutto. A Pesaro ci sarà l'opera al birraio di Preston, a Fano e Urbino il concerto, i nostri per Rossini e altri appuntamenti e conferenze. Luigi Ricci oltretutto sarà il main composer di questa edizione, un grandissimo compositore napoletano che viene definito come il leader dell'opera Buffa post-rossiniana. Rossini termina nel 1929 con la composizione del Guglielmo Telli, lì in avanti fino al cambio estetico del melodramma italiano c'è questo grande compositore Luigi Ricci, appunto quest'anno il birraio di Preston è già sulla volontà di tutti sia i musicologi che gli spettatori che ci seguono. Dove possiamo acquistare i biglietti? Allora sì, trovate tutto nei nostri canali social, le informazioni e c'è anche il sito Il Bel Canto Ritrovato, oltre che quello dell'orchestra Rossini, saranno online su Viva Ticket, oltretutto non ci sarà la commissione per l'acquisto online, quindi i prezzi che vedete indicati nei nostri materiali sono i prezzi che troverete con l'acquisto online. E concludiamo l'edizione del Tg con una notizia di sport che riguarda il calcio a 5. In questo mercoledì 9 agosto è ufficialmente partita la vendita degli abbonamenti del Little Service che, come vi abbiamo mostrato nelle scorse edizioni del nostro Tg, prevede quest'anno una tessera fedeltà congiunta al Loreto Basket. Proprio oggi è stato emanato il calendario della Serie A 2023-2024 che per l'Ital Service comincerà a Pesaro il 30 settembre contro i torinesi della L84. Siamo giunti al termine di questa edizione ma naturalmente vi ricordiamo gli appuntamenti del palinsesto di Rossini TV questa sera alle 21.20, l'inaugurazione della quarta edizione del Carpegnart Artisti nel Montefeltro. Si tratta della inaugurazione che abbiamo seguito con il nostro speciale e naturalmente l'appuntamento con l'informazione e domani mattina alle 7.20 con la nostra rassegna stampa, con l'edicola Buongiorno Rossini che ricordo anche in diretta sulla nostra pagina Facebook e nelle repliche che potete vedere in sovraimpressione. È tutto per questa sera, naturalmente vi lascio alle previsioni meteo augurandovi una bellissima serata.